Prima di avviare il video, ti ricordo di fare clic sul pulsante Iscriviti e di lasciare un Mi piace. Grazie. Il clima politico italiano si surriscalda con un confronto acceso tra il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, e la premier Giorgia Meloni. Le parole nette e prive di filtri di De Luca hanno sollevato polvere dopo la risposta diretta alle sollecitazioni di Meloni, che lo esortava a concentrarsi sul lavoro anziché sulle manifestazioni. L'epicentro di questa disputa è stato Montecitorio, dove De Luca, fiancheggiato da due sindaci campani, ha deciso di affrontare apertamente la stampa. Al centro del contendere, la manifestazione è organizzata per richiamare l'attenzione sui fondi di coesione destinati alla Campania, che De Luca accusa il governo centrale di trattenere in modo ingiusto. Le parole forti di De Luca non hanno lasciato spazio a interpretazioni. Meloni, senza soldi non si lavora, stronza. Un'affermazione che ha tracciato una netta linea di demarcazione tra le necessità regionali e le risposte nazionali. Questo scambio non è stato solo un banale battibecco, ma... evidenziato una profonda frattura tra le istanze regionali e il quadro politico nazionale. La visita a Montecitorio, pensata per essere un momento di confronto costruttivo, si è invece trasformata in un percorso disseminato di ostacoli, con ministeri abbandonati e barriere di polizia. De Luca ha dipinto un quadro desolante di negligenza e disorganizzazione, denunciando il Ministero della Coesione Territoriale come un deserto, e lamentando l'assenza di un'accoglienza adeguata a Palazzo Chigi, dove la delegazione campana non ha trovato neanche l'ombra di un funzionario disponibile. Questa mancanza di sostegno ha amplificato il senso di isolamento e abbandono percepito dalla Campania, secondo De Luca, che individua nel mancato supporto allo sviluppo regionale il cuore del problema. In un contesto già difficile sul piano sociale, la Regione ha un disperato bisogno di una distribuzione equa dei fondi vitali per il suo progresso e il suo sostegno.